Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi video semplicissimo ma utilissimo ragazzi, andremo a chiamare Dax e avvieremo un incarico Ciò cosa servirà per non avere la polizia in sessione quando combattiamo Ed è la cosa OP perché sono più le kill che ci fa la polizia raga che tutto il resto Allora una volta che abbiamo chiamato Dax niente di più semplice andiamo a richiedere un incarico Non richiedete il perivolo se no non serve a niente Richiedete l'incarico e raga iniziate a fare il devasto in una maniera tranquilla Perché la polizia in questa maniera non vi rampia i coglioni Ovviamente magari non potrete entrare dentro qualche stabile perché state facendo un incarico Ma queste sono le controindicazioni del glitch Intanto ragazzi vi invito se vi interessano le esplorazioni Se vi piace Savix come youtuber del cazzo e tutto il resto A visitare il nuovo canale Link ragazzi in descrizione Ho trovato anche nella home del canale principale Questo qua di gaming Porterò robe tipo esplorazioni Challenge e altre mille cazzate Quando mi verranno in mente ragazzi Aiutatemi a salire con gli iscritti E vi voglio anche dire Controllate raga che su questo canale invece Ho attivato gli abbonamenti E ci sarà una lunga serie ragazzi Del beef Vi spiegherò come funziona Come usarlo E tutte le basi ragazzi Quindi a questo punto Lasciate un like Lasciate un commento Supportate il Savix Supportate il canale E ragazzi Alla prossima Sbada Bam Ciao